E qui al Morgana chi incontro? Gisella Cozzo, la regina degli spot che tutti ricordiamo, che amiamo, quel jingle tanto simpatici che ogni tanto... è vero, ancora qualcuno che canticchia. Ce ne fai uno così, anche se c'è... Allora, posso farvi divertire con... Chi pulisce più di Jean Céclee? E poi quello del gelato. Comunque è una bellissima occasione qua, presento il mio singolo in anteprima, Giuliana, come sai, e sono molto felice di essere qua e mi fa piacere vederti. Anche a me tantissimo, ti ho visto fare quando hai fatto per Olivia Nutel John, abbiamo fatto la serata che ho presentato al 55, al 55, che tu hai improvvisato un numero con dei ragazzi, li hai resi ballerini perché ci vuole un po' di estro e di creatività in questo lavoro ed è stato davvero molto molto carino. Ci è piaciuto, l'abbiamo apprezzato. Allora, a dopo con Gisella Cozzo. Yes! Grazie mille.